Per la diffusione del GPP un lavoro da fare è anche quello sulla qualità dei CAM, sulla qualità con cui sono redatti, quindi possibilità che ci potrebbero essere quella dell'inclusione nella fase di stesura, di una fase di consultazione con le stazioni appaltanti e anche con tutte le virgolette possibili di semplificazione dei CAM, vale a dire per esempio una riduzione delle specifiche tecniche che sono ad oggi obbligatorie nel senso dell'articolo 34 del codice e comunque in generale una maggiore attenzione a quelli che sono i primi ad applicare i CAM che sono le stazioni appaltanti, le pubbliche amministrazioni.